Io penso di poter ragionare soltanto per la mia parte, sono contento di quello che ha detto oggi Matteo Salvini, ma che per il vero è sempre stato confermato da tutti i rappresentanti del centro-destra. Per quanto riguarda il fatto che ci siano altri candidati, questo fa parte della democrazia, sono contento che ci siano altri candidati e io non farò altro che confrontarmi con loro. Noi abbiamo un progetto di futuro di questo Paese, stiamo realizzando e stiamo portando avanti idee sul futuro di questo Paese. Io credo che non ci sia da fare polemiche o vezzare, bisogna semplicemente mettersi da ognuno a presentare il proprio progetto. Noi, ripeto, il progetto lo abbiamo ben chiaro, lo stiamo realizzando e vogliamo continuare a realizzarlo. Le altre cose sono tutte sulle ginocchia di giove, ognuno decida quello che vuole. Per fare chiarezza una volta su tutto, perché c'è stato qualcuno che sta cercando di portare avanti delle polemiche assolutamente strumentali, come sempre, partiamo dal presupposto che quella normativa che sta affrontando il Consiglio regionale, che consente al Presidente di Regione di convocare i comizi elettorali, è una legge che è già tale e già attiva in tutte le regioni di questo Paese, tranne che in Italia. Tranne che in Lombardia. Ciò detto, direi che è una scelta che vediamo, mi sembra che sia poco rilevante il problema, già oggi esiste una legge nazionale alla quale nel momento in cui fossi io a dover decidere devo fare riferimento. Questa legge dice che i comizi possono essere convocati non più di 30 giorni prima delle precedenti elezioni, non oltre 60 giorni dopo le precedenti elezioni, che poi non sono la date delle elezioni ma di proclamazione, quindi il 7 marzo del 2018. Quindi la scelta andrà fatta fra il 5 febbraio e il 7 maggio. Se non sarò io, sarà il governo a stabilirlo. Vediamo, se la legge si approva sarò io, se la legge non si fa tempo ad approvare e sarà il governo, ma credo che la cosa sia meno importante di quanto la si voglia fare per io.